Non riesce alla Turris l'impresa di fermare la corazzata Ternana nella sua corsa verso la salvezza. I Coralini escono sconfitti per 1-0 dal match con i Rossoverdi ma grazie ai risultati degli altri campi vede sempre più vicino il traguardo della permanenza in Serie C. Partono bene i padroni di casa che ci provano con Giannone che ben innescato da Tascone in contropiede spedisce al lato della porta Umbra. Lo stesso Tascone ci prova da fuori ma anche lui non trova il bersaglio. Nella ripresa la Ternana alza i ritmi e tiene in mano il controllo della partita anche in virtù dell'evidente differenza tecnica tra le due squadre. Il non è entrato vantaggiato da un saggio delle sue qualità calciando da fuori e sfiorando il palo. Poco dopo è partipilo a creare pericoli alla difesa corallina. A un quarto d'ora dalla fine con la Turris tutta rinchiusa nella propria area a difendere il prezioso pareggio è proprio vantaggiato a trovare il guizzo da bomber per battere l'esordiente portiere Barone e siglare il gol dell'1-0. La Ternana non si ferma ancora vantaggiato in acrobazia prova il colpo del KO ma il pallone finisce fuori. La Turris non reagisce più e il triplice fischio si arrende di fronte alla supremazia degli ospiti che così continuano la loro marcia record. Discorso salvezza quindi rimandato presumibilmente al prossimo turno contro il fanalino di Coda Cavese che con la vittoria contro il Teramo ha rimandato il verdetto di almeno una settimana. Agli uomini di Caneo basterà non perdere per tagliare fuori definitivamente metriliani e assicurarsi praticamente la matematica salvezza.